Buonasera, sono Eliana e ti farò ascoltare grande 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 di Mina. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei il peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e frepotente che abbia conoscuto mai. Ma non c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro, in un attimo tu. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Io vedo tutte e quante le mie amiche, sono tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose rose per il loro compleanno. Dico sempre di sì. Non hanno mai problemi e sto convinte che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tu sai via me. Io guarda tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio, poi ti odio, poi ti odio e poi ti odio, poi ti odio e poi ti odio. Non lasciarmi mai più. Sei grande, 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 come te, sei grande, solamente tu Non lasciarmi mai più Sei grande, 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 come te, sei grande, solamente tu Grazie Eliana, hai una bellissima voce, è vero, hai una ragione quando ti dico che hai una bella voce e canti bene Secondo me ti mancano alcune, diciamo, tecniche che ti permetterebbero di variare di più dal punto di vista interpretativo E soprattutto in questa esecuzione potrebbe essere l'emozione, ribadisco io non ho la verità in tasca Eri leggermente crescente, non eri perfettamente intonata in alcuni punti Questo è un esercizio che ti suggerisco comunque di fare, registrati con il telefonino e ascolta Perché da soli riusciamo già a correggerci Dal punto di vista delle potenzialità hai una bella voce, indubbiamente Vuoi che ti dica se non hai bisogno di tecnica? No, ma non lo direi a nessuno, neanche a me stessa Anche io continuo a studiare, quindi secondo me un po' ci starebbe bene Perché ti permetterebbe di divertirti di più e di dare ancora più interpretazioni alle canzoni Più colori, l'utilizzo dei risuonatori, tutte cose che vengono in un secondo tempo Non avendo mai fatto scuola di canto, non soggio di tecnica Infatti lo sapevo, me l'avevi detto, per cui il mio è sempre un incentivo se hai voglia Ho capito, perché mi hai detto anche quali siano state le problematiche Quindi non si discute su questo Detto questo però te lo devo dire Le potenzialità ci sono e come, è un bel modo di cantare Grazie Grazie a te